Siamo ospiti nel monastero di Waikrai. Questa è la stanza che ci è stata assegnata. A quest'ora del giorno i monaci puliscono almeno i monaci. Questa è la stanza che ci è stata assegnata. Questa è la stanza che ci è stata assegnata. Siamo qui con il nostro amigo Monaco che parla molto bene l'inglese. Siamo sotto la pagoda e abbiamo giudato il mondo. Ci troviamo con il maestro d'inglese del monastero di Tato che ci ha invitato a trascorrere questo fine settimana in un monastero al confine con Myanmar dove si svolge un festival. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.